E' Livia, l'hai sentita la notizia allora? Si, qualcuno ieri nel negozio ha fatto cadere Blair Chissà chi potrebbe essere stato Insomma, questo rischia pure la galera Ma che aveva Argentina? Ah, non lo so Dai, andiamo Sono a casa Argentina? Che c'è, Danny? Mi vuoi ancora ripetere quanto io sia stata cattiva? Ma certo, Argentina, ne sto parlando in tutta la città Si trovano tutti chi sia stato Prima o poi, la giornalaia Lo dirà, finirà il mio uomo sul dog E quando tutti lo sapranno Penseranno che tu sei cattiva come loro Perché sei arrivata a tanto Mi dispiace, in quel momento avevo tutta la rabbia Ho pensato a tutte le cose cattive che mi hanno fatto E quanto rimpiango in momenti combetti Quando ero amore E non ce l'ho fatta E ho colpito la povera Blair Che forse lei non voleva niente Ma certo Noi dobbiamo indagare Per vedere se Blair è stata ricattata Oppure è proprio come se Betty ha accettato a darci fastidio Così, ovvero, potrò decidere se stermi in colpa oppure no Eh, va bene, sì, mi sembra equa Bene, aspetta qui, prendo gli occhiali Non capisco che differenza facciano i due occhiali Ma c'è un paio di che, ma va bene, ok Eccomi pronta No, vabbè, così sono i primi che ho trovato Detectiva Argentina In azione Detectiva, cioè, assistente Danny in azione Forza Dove andiamo? Io direi di andare dai genitori di Blair Forse loro sanno qualcosa Go! Ma sai dove vive? Eh, ehm, non posso dirlo Dai, andiamo Ma dove siamo? Non siamo mai passati di qui Sì, è qua, è la strada per andare nella città alta Dai, lei Bene, eccoci qui Questa è casa sua Ma che casa? Certo, vive nella città alta Suono Ding dong Eccomi qui Che c'è Che abito Però mi faccio batte Vabbè E voi chi siete? Argentina E Danny Voi non siete benvenuti nella città alta Anzi, proprio in casa mia Vogliamo solo chiederle Sa che Argentina Era di nascosto amica di No, Blair Era di nascosto amica di Betty Sì, allora Insieme ci hanno dato fastidio di nascosto Lei sa se Betty l'ha ricattata O Blair era proprio d'accordo Beh, Blair non mi ha detto niente Vedevo solo che ogni tanto uscivano insieme E ogni tanto usciva con te Io pensavo Oh, beh, saranno tre amiche Però poi ho detto Ma non vi vedo mai Non vi vedo mai Dette insieme Lei non sa niente No, no Fidatevi di me Io direi la verità Anch'io voglio vederci chiaro in questa storia Beh, allora L'unica persona che può sapere la verità È proprio Blair Lei può dirci dov'è? Oh, sì È in pasticceria Nella città bassa Sì, perché era là Per la sua gamba rotta Andiamo Sì Grazie, è lo stesso Ciao Ciao Dette in caffetteria Ma e poi? Beh, voglio scoprire se è stata cattiva Beh, se non è stata cattiva Vuoi diventare sua amica? Sì Ma da sua amica Non pensi di dovresti dire la verità? Che sei stata te a farla inciampare? Beh, io non ho la certezza che è brava Continui a negare l'evidenza Ecco la pasticceria Ma che cavolo? Argentina, Danny Se può sapere perché mi avete tirato fuori dalla pasticceria così bruscamente Stavo per pagare Scusaci, ma dobbiamo farti un interrogatorio Oh no, i tuoi detective Noi vogliamo sapere Sai che tu hai aiutato Betty a darci passaggio Vogliamo sapere se l'hai fatto contro voi Cioè lei ti ha ricattato Oppure tipo è venuta da te e ha detto Vi siete conosciuti, avete fatto amicizie E poi qualcuna delle due ha avuto l'idea di darci fastidio Tranquilla Eh? Così possiamo tornare amiche Non dobbiamo odiarci Va bene, sì, lo ammetto Betty mi ha ricattato Oh, cosa? Sì, un giorno io ero nella gelateria della città alta E lei è venuta Stava cercando un'aiutante Un'aiutante Oh, un'aiutante Per farvela pagare E niente Mi ha conosciuto E ha detto Vuoi esserlo? Poi mi ha fatto conoscere Ho detto Ma sembra una dei tipi ok Le ha detto Bello farai E mi ha ricattato Ricattato Cioè Suo padre E capo dell'azienda Di dove lavora mio padre Mi ha minacciato di farlo Alucinziare Se non l'avrei aiutato Quindi L'ho fatto E ora Che Niente Non ci ho scoperto Ma sei banniti Non potremmo essere Tornare ad amici Sì, ma non voglio che lo licenzi Noi possiamo Tornare ad essere amiche Davvero Oh, grazie Ti vuoi fare una passeggiata? Va bene, ma Bene Allora io torno a casa Sì Porta questi a casa Non mi servono più Ok, ma torna presto Perché fra poco si cena Sì, sì, certo Voglio solo fare una passeggiata Con la mia nuova amica Vera Mettiti Ciao Ciao Andiamo Che bello Finalmente un'amica Vera Solo perché tu vivi Nella città alta E io nella città bassa Non vuol dire Che non dobbiamo essere amiche Sono completamente D'accordo Ho solo paura Un po' di come reagirà Betty Senza aiutarti Non ti preoccupate Tanto anche Quando lavorate insieme Non è che ci avete Ti ha dato più tanto fastidio Perché tu avevi un cuore buono Ti voglio bene Dove si sarà cacciato Blair? Gli ho dato appuntamento Alla gerateria della città alta Dieci minuti fa Cosa? Ecco perché non veniva Mi ha tradito E non solo A Margentina No, sapevo Gli piacessero ragazzi Questo scoop Piacerà molto Alla giornalaria Gli dirò Lo pubblicherò domani Ma vabbè Bene ragazzi Il nostro episodio Finisce qui Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E mettete like A questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi In commenti Se secondo voi È vero che a Blair Piacciono le ragazze Cosa? Niente E niente Iscrivetevi In commenti Anche Sì Per la mia gamba Ora Non è più Sto più tanto male Oh Bene Sono contenta Beh allora Ciao ragazzi Ci vediamo Nella prossima avventura Ciao